I tre fratellini scappati dai genitori violenti racconteranno la loro verità di fronte al giudice. È stato infatti già fissato l'incidente probatorio chiesto ed ottenuto dal PM Chiara Pistolesi. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo a carico dei genitori, entrambi ringeriani residenti da tempo ad Arezzo ed in possesso l'irregolare permesso di soggiorno. L'ipotesi di reato al momento è quella di maltrattamenti. La testimonianza dei piccoli di 3, 6 e 10 anni, una volta cristallizzata attraverso l'incidente probatorio, potrà essere dunque utilizzata come prova. I bambini infatti, in caso di dibattimento giudiziario, in quanto soggetti deboli, non devono apparire e quindi la legge prevede di raccogliere la loro versione dei fatti in un'altra udienza separata. I piccoli saranno così ascoltati in una stanza protetta del Tribunale di Arezzo. Sino ad oggi hanno raccontato una drammatica storia fatta di abusi fisici e verbali, di insulti e bastonate. I genitori li avrebbero addirittura chiusi in una stanza buia, costretti per ora a sollevare pesanti bottiglie. Un incubo culminato solo quando uno dei tre bambini, dopo l'ultima angheria, la mamma li avrebbe minacciati con un coltello, è riuscito a scappare di casa, portando con sé anche i fratellini più piccoli. I bimbi hanno così raccontato tutto ad una persona di fiducia nella scuola elementare, frequentata dal figlio più grande. A questo punto la squadra mobile della questura di Arezzo, che da tempo indagava sui maltrattamenti, ha rotto gli indugi ed è intervenuta denunciando i due genitori per maltrattamenti e lesioni e sottraendo loro i figli che sono stati trasferiti in una struttura protetta fuori provincia. Adesso quel drammatico racconto sarà ripetuto di fronte ad un giudice.